Quando potevo sfuggire alla vigilanza, scendevo col cuore partitante ed entravo dalla parte del cortile, quindi da dove siete voi adesso. Aquilino, riconoscendo il mio piccolo passo, mi priva leggero come per evitare che altri udisse e si accorgesse. Quindi c'era già questa intesa, no? Tra Aquilino e lui, ma l'intesa per cui parla molto spesso. Ogni volta il mio piacere era tanto che lasciavo andare le cocche dei gremiute. Allora il nitrito...